Chi è Kang il Conquistatore, il nuovo e probabile villain della fase 4 del Marvel Cinematic Universe? Andiamolo a scoprire all'interno di questo video, analizzando la storia fumettistica di questo personaggio. Kang esordisce ufficialmente sulle pagine di Avengers 8 del 1964, in un albo intitolato Kang il Conquistatore. Gli autori sono Stan Lee e Jack Kirby, la storia di stampo classico. I Vendicatori ricevono dal Pentagono l'incarico di indagare su un misterioso oggetto volante, da cui è saltato fuori un essere rivestito da un'armatura che si fa chiamare per l'appunto Kang il Conquistatore. La spaventosa figura, tanto per cambiare, è arrivata sulla Terra per conquistarla. Tuttavia, rispetto agli altri avversari precedenti dei Vendicatori, le sue intenzioni di dominio sono diverse. Infatti, lui è mosso più dal piacere della conquista in sé che dal potere assoluto. Gli Avengers, però, non sono interessati alle motivazioni che spingono Kang alla conquista della Terra, quindi attaccano quest'ultimo che riesce, grazie alle sue stupefacenti tecnologie, a sgominarli facilmente, perché Kang è un personaggio che proviene dal futuro, più esattamente dall'anno 3000. Infatti, nel 3000, lui ha inventato una macchina del tempo per poi recarsi nell'antico Egitto, dove si è spacciato per il faraone Ramatut, e ha governato con il pugno di ferro finché non arrivarono i Fantastici Quattro che rovinarono i suoi piani. A quel punto, nel tentativo di tornare nella sua era, incontrò il Dottor Destino, di cui lui pensa di essere un discendente e prende ispirazione dalla sua famosa armatura per crearsi una tuta dal combattimento, quella che poi avrà Kang, quella classica. Poi cerca di tornare a casa, però finisce per sbagliarsi e andrà nell'era del 4000, un'era dominata dal caos e dalla guerra in cui si impone come signore e padrone. A questo punto, Kang, compiaciuto di se stesso e contento della gioia provata dalla conquista pura e semplice, decide di dedicare la sua vita a questo obiettivo in giro per le epoche e le galassie. Mette le mani su milioni di mondi, popoli e distrugge armate su armate. Tuttavia, nel suo cuore nasce il desiderio di confrontarsi con la bellicosa terra del passato remoto. Così finisce nel XX secolo, bramoso di fronteggiare gli Avengers. Ma ora facciamo un passo indietro. Come è finito Kang ad impersonare un faraone dell'antico Egitto? In un certo senso non lo sa neppure lui. Stessa cosa per quanto riguarda le sue presunte origini, di cui si sa molto poco, nonostante i vari tentativi nel corso dei decenni di fare chiarezza. Sembrerebbe infatti che il vero nome di Kang sia Natalia Richards. Lui è nato nel XXX secolo, dove la tecnologia ha raggiunto dei livelli impensabili. Questo incredibile benessere sarebbe conseguenza dell'azione di uno straordinario benefattore, un viaggiatore temporale, anch'esso chiamato Natalia Richards, che avrebbe pacificato il mondo. Si dice che questo primo Nathaniel, altri non sia che il padre di Reed Richards, elemento questo che proverebbe una certa parentela tra Kang il Conquistatore e Mr. Fantastic. Tuttavia Kang il Conquistatore è sicuro che fra i suoi antenati ci sia anche Victor Von Doom, ovvero il Dottor Destino. Potrebbe anche essere, anche perché questo spiegherebbe in fondo il genio di Nathaniel, la sua ossessione per la gloria e il suo carattere tormentato. Perché fin dalla sua giovinezza Natalia Richards è una mente brillante e incompresa. Poco a suo agio, in un'epoca pacifica e apparentemente perfetta. Trova una macchina del tempo probabilmente costruita proprio da uno dei suoi misteriosi antenati e decide di viaggiare in un'era più oscura. Finisce come abbiamo visto nell'antico Egitto finché non è entrato nell'orbita della Marvel e degli Avengers. Nel loro primo incontro i Vendicatori riescono a sconfiggere Kang grazie all'aiuto di Rick Jones e della sua Brigata della Gioventù. Ma gli eroi più potenti della Terra non si stanno liberando affatto di questo nemico. Kang infatti torna presto ad attaccarli sfruttando un androide con le fattezze dell'uomo ragno per ingannarli. Piano che fortunatamente non va a buon fine. Questo è un periodo tuttavia dove i Vendicatori si trovano a fronteggiare un altro essere misterioso chiamato Immortus, il sedicente Signore del Limbo, alleato con i Signori del Male, uscendone ovviamente vincitori. L'incontro con Immortus però non passa assolutamente inosservato perché lui non è uno dei tanti villain caratteristici degli Avengers che hanno fronteggiato in questa prima fase della loro via editoriale. Infatti è un villain riflessivo, pensieroso e risulta difficile capire quali siano le sue vere intenzioni. Purtroppo non hanno tempo i Vendicatori per approfondire il tutto, ma sappiamo che in questo caso Kang è tornato. Kang è il padrone assoluto del quarantesimo secolo dove ha disseminato in giro per la galassia, per l'universo, dei re fantoccio che tengono in piedi stati fittizi. Tuttavia uno di questi finti regnanti, re Carelius, decida di ribellarsi a lui. Carelius ha una bellissima figlia di nome Ravonna e Kang nel vederla se ne innamora profondamente. Il conquistatore allora decide di guadagnarsi il suo amore nell'unico modo che conosce, attraverso la gloria. Evoca infatti gli Avengers nella sua era per sfidargli ad un gioco mortale. Ma gli eroi Marvel vincono e si alleano con il re Carelius. Purtroppo il re Ame cade sotto i colpi definitivi delle armate di Kang, che però decide di proporsi come sovrano non con le armi, bensì chiedendo la mano di Ravonna. Lei accetta per salvare il suo popolo quando Baltag, uno dei generali di Kang, offeso dalla scelta del suo comandante, decide di tradirlo e cerca di ucciderlo con un ultimo colpo. Allora a questo punto Ravonna si frappone tra Kang e il proiettile morendo al posto di Kang e prima di morire egli confessa di essersi innamorata di quest'ultimo. La morte di Ravonna sconvolgerà Kang, il conquistatore, per sempre. Infatti qualche tempo dopo lo troveremo mentre cercherà di convincere il Gran Maestro a donargli il potere per riportare in vita le persone. In questo periodo si consuma una delle più grandi svolte nella vita di questo personaggio. Infatti quando lo rivede Thor trasalisce. Era infatti certo di averlo sconfitto poco tempo prima e di averlo esiliato nel limbo grazie ad un vortice magico. Il figlio di Odino ha perfettamente ragione. È proprio quello che era successo. Infatti Kang si trova nel mondo di Immortus. Scova il suo corpo senza vita del sedicente signore del limbo e le sue straordinari tecnologie che usa subito per salvare Ravonna. Decide quindi di vivere in una realtà con la sua donna abbandonando le guerre e le conquiste ed è qui che scopre una terribile verità. Apprende che in ogni suo viaggio che ha fatto Kang temporale nell'universo Marvel ha creato un suo doppione e tantissime altre realtà divergenti. Kang senza alcun dubbio rimane sconvolto da questa notizia. infatti nelle sue innumerevoli scorribbande alla ricerca di nuove terre di cui impadronirsi ha viaggiato nel tempo un numero di volte enorme. In giro potrebbe esserci migliaia, forse centinaia di migliaia di sue altre versioni. Potrebbero aver guastato in maniera irreparabile il flusso temporale. Pian piano riesce a seguire alcune tracce delle sue copie e benché allibito non può essere che affascinato dalle imprese che quest'ultimi hanno compiuto. Apprende infatti che uno ha creato Cronopolis una cittadella fuori dal tempo un altro ancora ha tentato di uccidere la torcia umana e la cosa a Camelot un altro ancora è quello che ha sfidato il gran maestro nel primo endgame un altro è quello che ha cercato di rubare il potere della Madonna Celestiale una delle più famose saghe fumettistiche della Marvel mentre un altro ha sfidato una versione futura di se stesso che aveva deciso di reindossare i panni di Ramatut. In definitiva, nel corso degli anni ogni volta che i mendicatori hanno lottato contro Kang, il conquistatore hanno in realtà affrontato uno dei suoi tanti cloni temporali e il conquistatore non può che rimanere affascinato perché loro hanno realizzato meraviglia a cui lui non aveva nemmeno minimamente pensato tuttavia il Kang originale decide comunque di ucciderli perché potrebbero costituire un grandissimo pericolo per quest'ultimo. Dal Limbo, aiutato dalla sua amata Ravonna escogita un piano e un sistema per eliminare tutti i Kang esistenti inizialmente li riunisce tutti creando il consiglio dei Kang in poche parole questo è un consiglio dove tutte le versioni di Kang si erano riunite per scambiarsi il loro sapere, le loro tecnologie ed essere più forti insieme ma nella mente del vero e proprio ed unico Kang, quello originale lui voleva semplicemente ucciderli tutti e assorbirli per diventare l'unico Kang esistente nel momento in cui torna ad essere il solo ed unico c'è un inatteso colpo di scena infatti Immortus, il signore del limbo, salta fuori e a quel punto rivela la sua vera identità ed è la versione adulta di Kang proveniente da un futuro in cui ha smesso di conquistare mondi lontani e si è dedicato a custodire il flusso temporale questa scoperta manda su tutte le furie Kang il conquistatore finisce per impazzire in maniera definitiva poiché lui è un personaggio molto valoroso, potente e non può assolutamente accettare l'idea che un giorno diventerà un noioso burocrate e un semplice amministratore lo shock è tale che cerca di distruggere Immortus rubando lo psicoglobo la fonte del suo potere ma ne finisce sopraffatto all'improvviso i ricordi di tutti i Kang assorbiti travolgono il suo cervello per sopravvivere decide di dividere il suo corpo creando così una nuova divergenza temporale ed altri due Kang, altri doppioni, altre versioni di se stesso che tornano ad incrociare le strade degli Avengers della casa delle idee Marvel il vero e autentico Kang a questo punto annoiato, depresso e stanco decide di tornare a Cronopolis e si dedica ad amministrare il suo vasto impero transtemporale diventando lentamente più uno statista che un soldato un uomo abituato a risolvere i problemi con la diplomazia piuttosto che con le armi si sta dunque pian piano trasformandoli in Immortus sconcertato da questi cambiamenti che stanno avvenendo in lui cerca di rimpocolare la sua anima guerriera rapendo di nuovo la Madonna Celestiale e partecipando alla Guerra dell'Infinito poco dopo collabora con gli Avengers per sconfiggere una versione malvagia di Ravonna ma nel momento in cui Thor sta per colpire col suo Mjolnir Kang si frappone tra lei e il martello esattamente come l'amata aveva fatto per lui molto tempo prima il conquistatore in questo caso finisce in un stato di animazione sospesa e quindi si riprende e a quel punto si rassegna ormai il suo destino di diventare Immortus a questo punto Kang decide di recarsi nell'unica epoca temporale dove è stato realmente felice e sereno ovvero nell'antico Egitto poco dopo si palesa Immortus per porre definitivamente fine al pasticcio temporale Kang ha un intenso colloquio con la sua controparte anziana ed è ormai rassegnato all'idea di diventare lui ammette anche consapevolmente che non può opporsi al suo fato se non che a un certo punto scopre Kang che Immortus è una specie di servo degli antichissimi guardiani del tempo a questo punto Kang non può accettare di diventare il selvo di qualcuno e allora solamente a quel punto riprende la sua identità e dichiara ufficialmente guerra ad Immortus la battaglia finale si svolge nella saga di Avengers Forever scritta da Kurt Busiek e illustrata da Carlos Paceco e si conclude di fatto con un pareggio solo che adesso Immortus esiste come entità separata quindi Kang non è più destinato a diventare lui e può continuare a fare quello che preferisce e quello che ama combattere in giro per lo spazio e per il tempo andando a conquistare tutto ciò che riesce a conquistare e infatti non a caso poco dopo torna il personaggio di Kang in uno spettacolare ciclo chiamato la Dinastia di Kang come sempre scritto da Busiek dove attacca la Terra con ogni singolo uomo arma e mostro del suo esercito orchestrando un conflitto di proporzioni cosmiche un conflitto che sa tanto di resa dei conti con gli Avengers ma da cui Kang esce ancora una volta sconfitto al termine di un appassionante duello con Capitan America ma state assolutamente tranquilli perché questo non è l'ultimo scontro tra Kang il Conquistatore e gli Avengers perché il Conquistatore tornerà più volte a tormentare gli Avengers come per esempio nella saga di Kang Wars e ultimamente è comparso anche sulle pagine di Infinity Countdown le varie versioni alternative di Kang il Conquistatore poi non finiscono qui perché abbiamo Kid Immortus il Centurione Scarlatto Iron Led che è sicuramente un personaggio interessante perché no potrebbe anche apparire nel futuro del Marvel Cinematic Universe cinematografico perché questa è una versione alternativa di Kang il Conquistatore dove è un adolescente che praticamente diventa la figura di Iron Man un personaggio sicuramente positivo rispetto a Kang il Conquistatore originale e a un certo punto diventa anche il membro fondatore e il capo dei Young Avengers dei Giovani Vendicatori Giovani Vendicatori composti proprio da Iron Led da Kate Bishop dalla figlia di Ant-Man Cassie e da altri membri di questi Giovani Vendicatori quindi anche la storia di Iron Led è tanto complessa ma allo stesso tempo molto ma molto interessante sarebbe veramente molto ma molto figo siccome Kang probabilmente sarà il nuovo villain della fase 4 del Marvel Cinematic Universe vedere anche Iron Led nell'MCU perché veramente Kang come avete ben potuto capire per chi magari non lo conosceva è un personaggio sicuramente da fuori di testa e da lui parte veramente un bordello di roba e quindi veramente sono molto contento che sia stato introdotto e quindi staremo un po' a vedere come gestiranno questo nuovo villain che nei fumetti è un villain che si scontra tantissime volte con gli Avengers è un villain molto temibile è un personaggio sì umano perché lui fondamentalmente è un essere umano non ha superpoteri però grazie alla sua tecnologia grazie alla sua immensa tecnologia grazie alla sua intelligenza abilità e astuzia nei combattimenti lo rendono uno dei villain più temibili per i Vendicatori vi basti sapere che grazie alla sua immensa tecnologia lui riesce anche a creare una specie di barriera dove nemmeno il Mjolnir riesce a scalfirla tanto per farvi un esempio ma riesce a chiamare qualsiasi arma che lui voglia a sua disposizione dall'epoca del 3000 del 4000 quindi tecnologia super avanzata e wow non vedo l'ora di vedere in maniera più approfondita Kang il conquistatore perché abbiamo iniziato a vedere un po' una piccola introduzione il Loki ma quello ovviamente non era il Kang il conquistatore che avremo come villain detto ciò io vi ringrazio spero che questo video vi sia piaciuto spero di avervi dato più informazioni possibili per quanto riguarda Kang il conquistatore e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti